Ok, allora partiamo con un altro quiz, sempre dal simulatore di Edizioni Simone, quello accessibile tramite i loro testi, quindi non quello gratuito, per cui vi ingrandisco. Mettiamo come al solito la verifica immediata. Ok, allora, quale legge ha istituito in Italia la scuola materna statale? Allora, a livello di istituzioni ci sono due leggi importanti tra queste alternative, una è 1859 del 1962 che è la scuola media unica, mentre la scuola materna statale è la 444-1968. Ai sensi del DPR 89-2009, qual è l'orario regolamentale di funzionamento stabilito per la scuola dell'infanzia? Allora, dovrebbero essere 40, allora, leggiamo prima le alternative, aspettate, 30 ore settimanali, 50 ore settimanali, 36 ore settimanali, 40 ore settimanali, 29 ore settimanali. Per la scuola dell'infanzia dovrebbero essere 40 settimanali elevabili a 50 in situazioni particolari. Ok, ai sensi della legge 297-1994, il consiglio di circolo d'istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 è costituito da Allora, 19 componenti, 25, 21, 14, 15. Allora, se non erro, quando la popolazione scolastica è superiore a 500 alunni dovrebbero essere 19 componenti. Quando invece è inferiore a 500 alunni dovrebbero essere 14 componenti. Secondo il PNS di Piano Nazionale Scuola Digitale, l'animatore digitale è Un docente che insieme al direttore dei servizi generali amministrativi ha un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione a scuola e contribuisce alla definizione degli obiettivi nei programmi di innovazione didattica digitale. Un docente che insieme al dirigente e al direttore dei servizi generali amministrativi ha un ruolo nella diffusione dell'innovazione a scuola. Un docente che insieme al dirigente scolastico ha un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione a scuola e contribuisce alla definizione degli obiettivi e dei programmi di innovazione didattica e digitale. Un docente che con la collaborazione del consiglio d'istituto ha un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione a scuola. Allora, l'animatore digitale sicuramente non opera in collaborazione col consiglio d'istituto. Sicuramente opera insieme al dirigente scolastico, quindi andiamo ad escludere sia la prima alternativa che l'ultima. Io direi sia insieme al dirigente scolastico sia insieme al DSGA. Però potrei sbagliarmi. No, ok, è giusto. Un docente che insieme al dirigente scolastico e al direttore dei servizi generali amministrativi ha un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione a scuola. Ai sensi della legge 104-92, l'esercizio del diritto all'educazione della persona disabile è garantito attraverso l'istituzione di scuole speciali. Deve essere riformulato alla luce delle difficoltà di apprendimento. Non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalla disabilità. È garantito solo nel primo ciclo. È un divere a carico dei familiari del disabile. Non può essere impedito da difficoltà alcuna. Quali sono i livelli relativi all'acquisizione delle competenze nella certificazione rilasciata al termine della scuola primaria? Il cui modello è stato adottato col DM 742-2017. Avanzato intermedio base parzialmente raggiunto. Avanzato intermedio base iniziale. Avanzato intermedio base livello non raggiunto. Pienamente acquisito intermedio base iniziale. Sicuramente c'è il livello iniziale. Questo lo ricordo proprio. Questo non è da confondere con i livelli della valutazione della scuola primaria. Dovrebbero essere... Dovrebbero essere... Non ricordo... Uno, due, tre... Dovrebbero essere quattro. E dovrebbe essere... Livello base parzialmente raggiunto non mi risulta che ci sia. Quindi la prima la escluderei. Avanzato intermedio base livello base non raggiunto. Non mi risulta neanche che ci sia. Pienamente acquisito intermedio base iniziale. Qui è quel pienamente acquisito che non mi torna. Quindi io direi avanzato intermedio base iniziale. I quattro livelli. Ok. Quindi DM 742 2017. Certificazione delle competenze. In quale anno fu emanata la riforma gentile? 1933-23-40-30. Allora, la riforma gentile dovrebbe essere... Se nel 1933 sale al potere Hitler. Gentile fu ministro incaricato da Mussolini. Mussolini dovrebbe essere il 23. Ok. Ai sensi dell'articolo 6,1 lettera B di LGS 65 2017. Le regioni attivano e valorizzano le risorse professionali presenti nel sistema integrato di educazione e istruzione e coordinamento pedagogico dei servizi. Definiscono le linee di interventi regionali per il supporto professionale del sistema integrato di educazione e istruzione. Promuovono le iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del sistema integrato di educazione e istruzione. Promuovono azioni mirate alla formazione del personale del sistema di educazione e istruzione. Allora, a livello regionale penso che escluderei le azioni mirate alla formazione del personale del sistema integrato. E anche del personale del sistema integrato di educazione e istruzione. Sto guardando la 3 e la 4 che si somigliano molto. Quando ci sono due alternative che si somigliano molto attirano sempre la mia attenzione. Promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del sistema integrato di educazione e istruzione. Definiscono le linee di interventi regionali per il supporto professionale al sistema integrato di educazione e istruzione. Attivano e valorizzano le risorse professionali presenti nel sistema integrato di educazione e istruzione e il coordinamento pedagogico dei servizi. Penso che sia questa. No, ok. Linee di interventi regionali. Ok. Ai sensi dell'articolo 2 di LGS 65 2017. Tra i servizi educativi per l'infanzia ci sono. Sezioni primavera che accolgono bambine tra i 18 e i 36 mesi. Sezioni primavera che accolgono bambine tra i 18 e i 24 mesi. Nidi e micronidi che accolgono le bambine tra i 3 e i 36 mesi. Nidi e micronidi che accolgono le bambine tra i 3 e i 36 mesi. Allora, se non erro, le sezioni primavera accolgono bambini dai 2 ai 3 anni Quindi dovrebbero avere dai 24 Scusate, dai 2 ai 3 anni, sì Quindi dai 24 ai 36 mesi di età Sezioni primavera Quindi 18 mesi sono un anno e mezzo, no Quindi le prime 2 sulla sezione primavera Io le escluderei Nidi e micronidi Accolgono le bambine e i bambini tra 3 e 36 mesi di età 6 e 36 Direi nidi e micronidi che accolgono i bambini tra 6 e 36 3 e 36, mannaggia loro Ok La legge 170 2010 in materia di disturbi specifici di apprendimento Ha tra le sue finalità quella di Esentare i studenti di un DSA dall'obbligo scolastico al termine della scuola primaria Quantificare una pensione a favore di studenti con diagnosi DSA Garantire il diritto all'istruzione degli studenti con diagnosi DSA Regolamentare la creazione di apposite strutture scolastiche Esentare gli studenti No, garantire il diritto all'istruzione Piaget ha definito le modalità di comprensione del mondo limitata alle azioni fisiche che i bambini esercitano direttamente su di esso Stadio delle operazioni formali Stadio senso motorio Stadio preoperazionale Stadio delle operazioni concrete Allora, sicuramente non è Stadio delle operazioni motorie Scusate, stadio delle operazioni formali Stadio senso motorio Stadio preoperatorio Stadio delle operazioni concrete Sto un attimo ripetendo gli stadi di piaget Azioni fisiche Che i bambini Esercitano direttamente Stadio senso motorio Perché operazioni formali e preoperazionale direi di no Tra operazioni concrete e stadio senso motorio Direi stadio senso motorio Nel comportamentismo L'unica variabile di studio deve essere il comportamento manifesto Prevede che non è possibile studiare il comportamento manifesto Fa riferimento agli studi di Einstein L'unica variabile è il pensiero creativo No, l'unica variabile è il comportamento manifesto Poi Nell'ambito delle teorie di apprendimento Se si riesce a controllare il comportamento attraverso il rinforzo Si parla di Si parla di modellamento Come si chiama il processo che si attua quando il comportamento di un soggetto che osserva si modifica in relazione al comportamento di un altro soggetto che funge da modello Imitazione, modellamento, condizionamento classico, condizionamento operante Allora, condizionamento classico e operante escludiamoli perché sono due concetti insomma strettamente legati al comportamentismo Tra imitazione e modellamento che differenza c'è Allora La domanda dice Il comportamento di un soggetto che osserva si modifica in relazione al comportamento di un altro soggetto che funge da modello Vuol dire che qui Io mi sto modellando, non sto imitando secondo me O sto imitando Un soggetto che osserva Modifica il suo comportamento in relazione a quello di un altro soggetto Quindi tu ti stavi già comportando in un determinato modo Poi osservi e cambi Secondo me è modellamento Perché se appunto fosse imitazione sarebbe semplicemente replicare esattamente quello che fanno gli altri Non modificare il comportamento in relazione a Secondo quale meccanismo avviene lo sviluppo del linguaggio secondo Skinner? L'azione, condizionamento, apprendimento, motivazione Allora Skinner da buon comportamentista Condizionamento operante Skinner Quindi direi condizionamento Perché l'allazione non è lui che ne parla Apprendimento e motivazione sono fuori contesto Quindi condizionamento Secondo Erikson Durante l'infanzia il bambino aspetta il compito di Imparare a conoscere l'ambiente circostante Imparare l'autocontrollo Sviluppare le proprie capacità comunicative Sviluppare fiducia verso gli altri Sviluppare consapevolezza del proprio corpo Allora andando per esclusione Allora imparare l'autocontrollo L'infanzia L'autocontrollo è una competenza troppo elevata Consapevolezza del proprio corpo Per gli stessi esatti motivi Ci vuole più tempo Imparare a conoscere l'ambiente circostante Potrebbe anche essere Però è un processo che dura tutta la vita potenzialmente Esattamente come sviluppare le proprie capacità comunicative Io direi sviluppare fiducia verso gli altri Il senso di fiducia di base Che mi riporta appunto ad Ericsson Ed è una di quelle cose che va fatta necessariamente Strettamente durante l'infanzia Quindi io risponderei numero 4 Ok Che differenza c'è tra apprendimento e maturazione? L'apprendimento dipende da fattori ambientali La maturazione è un fattore naturale Molteplici differenze L'apprendimento è un dato oggettivo La maturazione è soggettiva L'apprendimento dipende da fattori naturali Ma la maturazione è da fattori ambientali Allora La risposta a molteplici differenze Io la escluderei Perché non dici tutto Non dici nulla L'apprendimento non è un dato oggettivo Quindi anche la terza la escluderei Rimangono in ballo le due più simili Che sono la 1 e la 2 L'apprendimento dipende da fattori naturali La maturazione è da fattori ambientali Io intenderei l'apprendimento Come qualcosa di naturale Nel senso che la maturazione di un soggetto È qualcosa che avviene per natura Che avviene gioco forza Quindi io direi L'apprendimento dipende da fattori ambientali Mentre la maturazione è un fattore naturale 18 Cosa comuna Sigmund Freud e Jean Piaget Nelle loro diverse teorie riguardanti lo sviluppo? Entrambi considerano sviluppo determinato dagli istinti Entrambi danno grande valore all'adolescenza Entrambi individuano i meccanismi di assimilazione e accomodamento Entrambi suddividono lo studio in fasi Entrambi formulano le loro teorie alla fine dell'Ottocento Allora Partendo dall'ultima Se non sbaglio Freud dovrebbe essere morto Durante la seconda guerra mondiale O comunque lì In quel periodo lì Quindi l'ultima la escluderei Assimilazione e accomodamento Sono assolutamente due concetti Con cui Freud non c'entra niente Dare valore all'adolescenza In realtà Nessuno dei due Cioè forse sì Più Freud dà valore all'adolescenza Piaget non ne parla proprio Perché Piaget si ferma alle operazioni formali Quindi agli 11-12 anni Entrambi considerano lo sviluppo determinato dagli istinti Freud sicuramente sì Invece Piaget assolutamente no Cioè epistemologia cognitiva Cioè è proprio È proprio il contrario degli istinti Quindi direi Entrambi dividono lo sviluppo in fasi L'apprendimento vicario è L'apprendimento che avviene attraverso l'aiuto di qualcuno Nei momenti di difficoltà Una particolare situazione Nella quale si possono apprendere contenuti complessi senza fatica Un tipo di apprendimento per osservazione di un nuovo comportamento eseguito da altri Un apprendimento fatto da una persona Che sostituisce un'altra nell'impossibilità di apprendere Allora andiamo ad esclusione Una particolare situazione in cui si possono apprendere contenuti complessi senza fatica Direi sicuramente di no Un tipo di apprendimento che avviene per osservazione di un nuovo comportamento eseguito da altri È plausibile ma non è apprendimento vicario Un tipo di apprendimento fatto da una persona che ne sostituisce un'altra impossibilità ad apprendere O l'apprendimento attraverso l'aiuto di qualcuno nei momenti di difficoltà Allora io penso che per vicario Intendano Un sostegno nei momenti di difficoltà Però sono molto tentata dall'alternativa numero 4 Devo dire la verità Anche se mi pare che non abbia moltissimo senso Un tipo di apprendimento che avviene per osservazione di un nuovo comportamento eseguito da altri Rifacendosi alle tappe di sviluppo di Jean Piaget Distingue tre categorie di giochi Statici, dinamici con attrezzi Di esercizio simbolici di regole All'aperto a chiuso ai gruppi Individuali di gruppo immaginativi Allora Non so Strettamente individuare diciamo la risposta Però ci posso ragionare Statici, dinamici con attrezzi Mi sembra che Piaget non abbia parlato A differenza di altri Di attrezzi particolari Per quanto riguarda il gioco All'aperto al chiuso a gruppi Anche qui Per quanto riguarda l'interazione Ecco diciamo In gruppo O Aperto al chiuso Individuali di gruppo immaginativi E Di esercizio simbolici di regole Sono le due alternative che mi richiamano di più l'attenzione Ma semplicemente perché C'è la parola simbolici Nell'alternativa numero 2 E c'è la parola immaginativi Nell'alternativa numero 4 Sinceramente Tra le due alternative La più attinente col pensiero di Piaget Mi sembra La numero 2 Di esercizio simbolici di regole Però Se dovessi pensare Al Egocentrismo di Piaget Sarei più tentata Dalla numero 4 In quanto fondamentalmente Egocentrismo Uscita dall'egocentrismo E poi pensiero simbolico Ipotetico Deduttivo Quindi giochi immaginativi Per cui tra la 2 La 4 Alla fine Sceglierei la numero 4 Infatti era la numero 2 Perché sono sempre Riesco sempre a ridurre Il ragionamento su quelle due Sulle due più Vabbè Era simbolici Avevo fatto un ragionamento Per metà corretto Quale delle seguenti Non è una delle categorie In cui si raggruppano Gli obiettivi di apprendimento Della lingua italiana Da conseguire Al termine della classe quinta Della scuola primaria Non è Allora Scrittura Ascolto e parlato Lettura Organizzazione delle informazioni Elementi di grammatica esplicita E riflessione sugli usi della lingua Allora Ascolto e parlato C'è sicuramente Come lettura e scrittura Organizzazione delle informazioni Elementi di grammatica esplicita E riflessione sugli usi della lingua Io ho in mente Che ci sia Ho in mente La dicitura Sicuramente elementi di grammatica Però ho in mente La dicitura Elementi di grammatica Implicita Non so perché Elementi di grammatica Esplicita Organizzazione delle informazioni Categorie in cui si raggruppano gli obiettivi di apprendimento della lingua italiana Da conseguire al termine della classe quinta Vado a sentimento Organizzazione delle informazioni Gli strumenti compensativi sono Strumenti didattici che semplificano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria Strumenti tecnologici che situiscono all'alunno nello svolgimento dell'attività che da solo non riesce a svolgere Strumenti tecnologici che non favoriscono l'apprendimento Didattici tecnologici che sostituiscono facilitano la prestazione della richiesta dell'abilità deficitaria Strumenti didattici o tecnologici che sostituiscono la menomazione Sicuramente non si parla di menomazione quindi no Che non favoriscono l'apprendimento assolutamente no Quindi la 3 e la 5 ce le togliamo Si sostituiscono all'alunno all'attività che da solo non riesce a svolgere No Quindi ne abbiamo tolte 3 O la 1 o la 4 Strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta dall'abilità deficitaria Oppure strumenti didattici che semplificano la prestazione richiesta dall'abilità deficitaria Allora La discriminante penso sia didattici e tecnologici Quindi andrai sulla 4 Perché anche una semplice calcolatrice la considerano per la tecnologica Allo scopo di far vivere ai bambini esperienze sul piano cognitivo, affettivo e del linguaggio Nella progettazione didattica vanno inserite Attività attentive di percezione visiva Filastroche e canzoncine Fiabe Attività manipolative Allora Esperienze sul piano cognitivo, affettivo e del linguaggio Allora Cognitivo, affettivo e del linguaggio Andrei a discludere Attività manipolative e attività attentive di percezione visiva Filastroche e canzoncine forse sviluppano Più fiabe O filastroche e canzoncine Piano cognitivo, affettivo e del linguaggio Forse più sul piano affettivo Su cognitivo potrei interpretare che comunque si impara una memoria Affettivo comunque hai la canzoncina e del linguaggio sviluppa il linguaggio Filastroche e canzoncine No, fiabe Nel progettare attività didattiche per una classe quinta della scuola primaria Devo tener conto come obiettivo di apprendimento di lettura Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle lascalie Per farsi un'idea del testo che si intende leggere Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e approfondimento Durante o dopo l'ascolto Comprendere consegni e istruzioni per l'esecuzione di attività scolastiche ed estrascolastiche Raccogliere idee, organizzarle per punti Pianificare la traccia di un racconto e di un'esperienza Classe quinta Lettura La 1 Sfruttare informazioni di titolazione, delle immagini L'attenzione dell'insegnante nella didattica metacognitiva è volta in particolar modo a Monitorare e raccogliere elementi utili alla valutazione dell'apprendimento del singolo alunno Rinforzare le tecniche di memorizzazione Far produrre materiali di vario tipo Analizzare strategie di cooperazione tra gli allievi Far sviluppare agli alunni abilità di riflessione sulla propria modalità di apprendimento In una classe prima della scuola primaria Nella progettazione di attività pratica della scrittura La correttezza ortografica va monitorata solo se si usa il metodo fonologico La correttezza ortografica va monitorata Posso tralasciare il controllo dell'ortografia Posso tralasciare l'attività del controllo ortografico se utilizzo il metodo globale La correttezza ortografica va monitorata Stavo progettando attività per la sezione scuola dell'infanzia O come esigenza quelle di tenere d'occhio bisogni specifici di alcuni bambini legati all'età Al tal fine organizzo lavoro di recupero gruppi eterogenei, gruppi omogenei, lavoro individuale Gruppo omogenei Per apprendimento cooperativo si intende un tipo di apprendimento in cui è favorito lo scambio tra i ragazzi In particolare durante i compiti in classe In piccoli gruppi basato sul rapporto interpersonale dell'apprendimento Cioè sul grado di amicizia presente e sullo scambio reciproco In piccoli gruppi in cui gli studenti lavorano insieme per migliorare reciprocamente il loro apprendimento Comunitario partecipato in cui le classi vengono mescolate e i ragazzi imparano a cooperare anche con studenti di classi ed età diverse da loro Cooperative learning I compiti in classe rilascierei stare In piccoli gruppi basato sul rapporto interpersonale, sul grado di amicizia No Piccoli gruppi in cui gli studenti lavorano insieme per migliorare il loro apprendimento Nell'ambito dell'insegnamento della disciplina matematica Nella progettazione delle mie lezioni avrò cura di inserire come metodologia didattica Attività laboratoriali Brainstorming Cooperative learning Ricerca azione Per la matematica Attività laboratoriali Luogo fisico e mentale che pone al centro l'apprendimento La definizione di quale strumento didattico Libro di testo Sussidio audiovisivo Biblioteca Lim Laboratorio L'unico che può essere sia fisico che mentale Laboratorio Avevo già incontrato questa domanda Per configurare correttamente un indirizzo mail di Outlook Quali parametri bisogna avere a disposizione Nome utente e password dell'indirizzo Server pop3 MS SMTP Solo nome utente e password Solo Server POP3 Server SMTP Allora io per di default le alternative in cui c'è scritto solo Le lascio perdere Nel cestino Windows Facendo doppio clic su uno dei file Viene ripristinato Viene chiesto di associare il file a un'applicazione Per rieseguire il file Viene cancellato definitivamente Viene visualizzata la scheda di proprietà Viene visualizzata la scheda di proprietà Nonostante non abbia più Windows Col termine notebook si intende Computer portatile Un'agenda multimediale No scusate Un'agenda elettronica Un computer multimediale Un computer portatile Un sistema operativo è utile ma non indispensabile per usare un computer Utile esclusivamente per la videoscrittura Indispensabile per utilizzare un computer Cos'è il TCPIP Un protocollo a livello applicazione Un protocollo che regola il trasferimento di pagine internet Il nome e consorzio che gestisce gli standard internet La suite protocolli usata per collegarsi a internet Allora Non è un consorzio Penso che sia la suite di protocolli usata per collegarsi a internet What is the meaning of the following phrasal prepositional verb? To grow out of something Grow out Allora Allora Questo frase al verbo onestamente non lo conosco To get too big for Diventare troppo grandi per qualcosa Perché grow vuol dire crescere Quindi grow out vuol dire crescere troppo Ok We have delivered it but we haven't installed it yet L'abbiamo consegnato ma non l'abbiamo ancora installato Quando c'è ancora va messo yet alla fine Choose the correct sentence Good friends help their other Good friends help each other Good friends help them other Good friends help themselves I buoni amici si aiutano gli uni con gli altri Quindi each other The play is set in Italy The characters are Italian Allora La 1 o no? However the play is set in Italy Little of the characters Ah Few of Ok Perché non le ho provate tutte Silvia's fight from Sao Paolo Took more than hours She Be exhausted After such a long flight Must Ok Non so perché ho sbagliato Non ho messo 50 domande Ne ho messo 40 Va bene Ho sbagliato la risposta a 6 domande Però era su 80 Allora vediamo la soluzione Questa Le regioni Nidi e micronidi tra i 6 e i 36 mesi Apprendimento vicario Osservazione di un nuovo comportamento eseguito da altri Questa di Piaget Fiabe E poi questa l'inglese Ok Benissimo Perfetto Questa di Piaget Gargima